è possibile ammirare l'affresco del commovente episodio del saluto di chiare delle sue compagne a francesco nella terza campata entrando nella basilica superiore sulla parete sinistra primo partendo da sinistra in realtà quando portarono il corpo di francesco a chiara affinché lo potesse salutare chiara non lo poteva abbracciare così come ce lo rappresenta giotto a san damiano ancora esiste il buco da dove sarebbe stato fatto passare il corpo di francesco affinché la santa lo potesse piangere per spiegare il rapporto fra chiara e francesco bastano le parole che lo stesso santo dedicò alla sua sorella nella fede dopo dio e il firmamento chiara